Buongiorno a tutti, sono Flavio Niccia, sono Flavio Niccia e ho un studio tecnico per l'uncia che c'è Giardosoni. Io vorrei disporre qui a voi un'esperienza dell'internozza scuola lavoro, che non si è trattata solo di andare in un'azienda di servizi e fare mansioni che non è stata assegnata, ma è stata anche stata fatta basata su dei corsi di formazione, per esempio il corso della sicurezza, che è stato molto importante, ci è stato spiegato come intervenire in caso di emergenza e anche questo è molto importante, non conta solo il pratico, ma anche il teorico, perché in un caso di emergenza uno deve essere sempre pronto a intervenire per salvare una vita o per salvare la stessa vita, la propria vita. Un altro corso che ci è stato molto utile, soprattutto in queste agenzie di servizi, è stata quella sulla comunicazione, in cui ci è stato spiegato i vari vari di porci verso l'accente e che sono molto fondamentali che può convincere una persona, per esempio se uno deve concludere un affare, se uno si vuole in modo, con una postura negativa, quella persona sarà meno propensa a concludere un affare con te, invece se tu ti imponi in modo aperto, sia fisicamente che verbalmente, quella persona sarà più ben accetta a trattare con te. E poi l'esperienza che ho fatto con questo CAF, che mi ha aiutato molto con emozione, anche perché ho potuto parlare con molte persone e ho potuto parlare anche a telefono chiedendo informazioni, dando informazioni e avvisando gli appuntamenti importanti alle persone. e io volevo ringraziare la mia scuola, la scuola che ci ho spiegato e tutte le persone qui presenti per aver dato questa possibilità a noi. Grazie. 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 Adesso Daniele e Gusto. Daniele. Grazie. Buongiorno a tutti. Anche io ho avuto la distituzione di Giorgio Rosoli e vorrei pure due domande. Una alza in grado dicendo che come pensate di scutellare il lavoro che verrà gradualmente sostituito dalle macchine dell'innovazione dell'industria 4.0. La seconda domanda è l'Italia è pronta ad accogliere questo nuovo cambiamento, perché ha trovato tre punti sulle quali adeguare le infrastrutture digitali, la riprende un capitale umano che progetti e gestisca le nuove tecnologie e soprattutto una politica industriale per l'innovazione. Grazie. Grazie a te. Sei stato, come dire, purgente. Sono molto curiosa di sentire le risposte. Adesso c'è Valeria. Prima Valeria, dai. Adesso, per favore. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Valeria Sodini e frequento l'istituto Alperchiero del Campone. Per cui prendete un corso di studio che dovrebbe prepararmi al lavoro, ma molto spesso i laboratori e gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono adeguati a darci una giusta preparazione. Per questo chiedete di avere laboratori e strumenti più adeguati a questo. E poi chiedo la sicurezza che nell'alternanza scuola-lavoro andiamo a fare delle attività per cui studiamo e non ci vediamo per fare altre. Allora, Valeria. Adesso studiamo un po' sbagliato in uomo e adesso dovete prendere il Daniele e lo busco, giusto? No, ho sbagliato in uomo. Marcella, ma ragazzi, è un pasticcio dei tuoi netti. Va bene, Marcella. Buongiorno a tutti, sono Marcella Marotta e frequento l'istituto Giorgio Angusoli. Vorrei parlare soprattutto per il futuro di noi giovani studenti perché sulla base di un recente studio dell'Università di Catania si è preso un campione di mille ricercatori che sono espadriati dal nostro oeste per andare a lavorare all'estero. La cosa che mi ha fatto appunto pensare è che il 73% di queste persone si trova bene al di fuori dell'Italia perché appunto c'è uno stato di benessere sociale e lavorativo maggiore rispetto al nostro paese. e la mia domanda è cosa si potrebbe fare per appunto perché non si valorezzano maggiormente il lavoro e arricchendo così il nostro paese. Grazie.